Salve a tutti fratelli e sorelle, Dio ci benedica, sia lodato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, lode gloria a Cristo e Ave Maria. Messaggio presunto di Anguera, trasmesso il 23 marzo 2021. Cari figli, camminate per un futuro di grande battaglie spirituali. Quelli che sono lontani non sopporteranno il peso delle prove. Rimanete con Gesù e cercate forza nella preghiera. L'umanità si è allontanata dal Creatore e cammina per un grande abisso. Pentitevi e tornate a colui che è il vostro unico e vero Salvatore. Sono la vostra madre addolorata e soffro per quello che viene per voi. Ascoltatemi. Non permettete che il nemico di Dio vi inganni, vi allontani dal cammino che vi ho indicato. Coraggio, la vittoria di Dio verrà per i giusti. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. Ecco, in questo messaggio presunto, chiaramente come vedete, ecco, camminiamo in un periodo storico di grandi battaglie spirituali e soprattutto nel futuro saranno ancora peggio. Dice che chi sarà lontano dalla fede non supererà il peso di queste prove che stanno già avvenendo, cari fratelli e sorelle. L'umanità si è allontanata dal Creatore e che cosa dobbiamo fare? Pentirci, convertirci e pregare la preghiera. Dobbiamo pregare, cari fratelli e sorelle, dobbiamo pregare perché, come dice la Vergine Maria, dice soffro per quello che viene per voi. Quindi, cari fratelli e sorelle, rimaniamo in preghiera, continuiamo a pregare il Signore nostro Gesù Cristo nel Santo Rosario, nella Chiesa Cattolica e andiamo avanti, sapendo che il Signore tiene tutto sotto controllo. Questo dipende da noi, cari fratelli e sorelle. Crediamo o non crediamo in Cristo? Punto di domanda. Dio ci benedica, sia lodato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, lode e gloria a Cristo e Ave Maria.